Tutto pronto per la stagione autunnale di Chilo Vata tutto l'anno, che da settembre a dicembre coinvolgerà la cittadina di Sansepolcro con spettacoli di danza, teatro e prova aperte. Otto gli appuntamenti in programma, inclusa la giornata europea dello spettatore. Dopo il successo del festival estivo abbiamo una rassegna autunno-invernale che proseguirà anche in primavera. Partiamo il 22 di settembre, domenica sera alle 21 al Teatro alle Misericordia di Sansepolcro con Mario e il Mago. È uno spettacolo ispirato a un racconto di Thomas Mann con il quale la compagnia ci fa riflettere sui modi della comunicazione, su quanto mormosamente siamo affascinati dalla forza e dalla violenza di un certo tipo di aggressione verbale e comunicativa. Lungo l'anno le nostre attività continuano nel modo più importante per Chilo Vata, che è la sua identità di centro di residenza del Ministero per giovani compagnie. Quindi la nostra rassegna Chilo Vata tutto l'anno si compone delle prove aperte, dei lavori delle compagnie che vengono per l'appunto a lavorare le prossime produzioni. Qual è la filosofia che sta dietro al Festival Chilo Vata? Sicuramente un investimento sulla ricerca, sui linguaggi contemporanei, sul teatro contemporaneo, la danza. Arriveremo fino all'ultimo appuntamento di questa prima porzione di stagione il 2 dicembre a conoscere un'artista australiana, residente in Olanda, prodotta da un teatro belga. Quindi Chilo Vata, come sempre, ha una vocazione internazionale e contemporanea. Nei passaggi anche degli appuntamenti più classici. Mi viene in mente ad esempio lo spettacolo Saga Salsa, che sarà fatto al ristorante fiorentino di Sansepolcro e che in realtà racconta la storia di una famiglia che si raduna intorno al tavolo della cucina per fare la salsa, la passata di pomodoro. E poi nel frattempo ci saranno altri appuntamenti durante i quali ci piace investire su drammaturghi emergenti come Garozzo, Aldrovandi e su altre compagnie. Insomma noi vi invitiamo a venire e a restare in contatto con i nostri canali.